A Teramo l'associazione dei consumatori Robin Hood è intervenuto sulla vicenda delle fatture di gennaio 2021 della Ruzzoreti che ha fatto registrare non poche polemiche a causa degli importi elevati presenti in bolletta. Una fatturazione dovuta ma su cui bisogna chiedere alcuni aspetti come ad esempio quelli degli importi relativi al 2018 che l'utente può non pagare ma va eccepita la prescrizione. Noi abbiamo provato la conferenza stampa perché vogliamo prendere distanze tra questa gazzar politica che si è creata sulle accuse sulle gestioni e contro gestioni. Il tema è altro, il tema è che queste bollette sono arrivate e dobbiamo dire che la Ruzzo era legittimata in questa azione nel senso che la nuova normativa introdotta dalla legge bilancio prevede che le bollette devono essere messe entro i due anni dal consumo effettuato. Quindi l'azione della Ruzzo è legittima perché doveva emettere queste bollette, altrimenti avrebbe perso il fatturato. Ora queste bollette sono state messe con una lettura iniziale che è il 30 settembre 2018 e una lettura che non è reale perché dalla casistica che abbiamo noi sulle centinaia e centinaia di posizioni che abbiamo esaminato il 39 2018 è una lettura inventata al sistema per poter poi emettere queste fatture di carattere massivo. La Ruzzo comunque ha annunciato che è possibile reutilizzare queste bollette? Sì, la reutilizzazione è anche questo un atto d'obbligo che viene previsto dall'autorità in quanto la reutilizzazione può avere la stessa durata del periodo di mancata fatturazione. Quindi oltre all'indennizzo per la fatturazione c'è anche questo aspetto. Oltre che il fatto importante, e su questo la Ruzzo ha ragione, è che la prescrizione va eccepita. Cioè ovvero le bollette devono avere una continuità di fatturazione e quindi ci possono essere deperite come in questo caso del 2018 che sono presenti in bolletta. Poi è il consumatore che deve eccepire questa prescrizione. Comunque la stessa Ruzzo si è dichiarata disponibile a evidenziare questi aspetti nel futuro e quindi adesso specialmente con la ripresa delle fatturazioni del Sisma sicuramente qualche aggiustamento ci sarà e sarà tutto più leggibile per i consumatori. Presidente, siccome è un argomento abbastanza complesso la questione della lettura e del pagamento, lei cosa consiglia di fare agli utenti che hanno ricevuto queste bollette? Di loro c'è una situazione di consumatori o la Ruzzo stessa? Grazie. Grazie. Grazie.